Musica Protesta degli operai Whirlpool a Napoli e di quelli ex Ilva Taranto, posti di lavoro saltati o a rischio. Oltre 80 alle vertenze aperte, i sindacati dicono la situazione rischia di diventare esplosiva. Salgono ancora i contagi spinti dalla variante Delta, come contromisura arriverà il Green Pass. Domani cabina di regia e consiglio dei ministri. Giustizia, 5 stelle sulle barricate contro la riforma, presentati centinaia di emendamenti, contrari anche alcuni PM antimafia, ma il ministro Cartabia ribatte, è necessario andare avanti. A spasso nello spazio 11 minuti di volo fino a 100 km di altezza, missione compiuta per il padrone di Amazon Jeff Bezos e l'equipaggio della New Shepard, la prima navicella privata ad andare in orbita. Buonasera e benvenuti al TG2000. Dal mondo del lavoro dunque giunge oggi un forte grido di sofferenza. Molte le crisi aperte e inasprite dalla fine del blocco dei licenziamenti. Dalla Whirlpool di Napoli all'ex Alitalia, dalla GKN di Campi Bisenzio all'ex Ilva. E i lavoratori si fanno sentire. E' arrivata sui binari dell'alta velocità di Napoli la rabbia dei lavoratori Whirlpool che questa mattina hanno bloccato i treni in partenza e in arrivo dal capoluogo partenopeo. Un blitz di due ore è proseguito poi in piazza Garibaldi dove è stato fermato il traffico cittadino. Canti e striscioni per protestare ancora una volta contro il licenziamento collettivo di 340 operai annunciato mercoledì scorso dalla multinazionale americana. I sindacati sono sul piede di guerra. In attesa della manifestazione nazionale del 22 luglio a Roma, prevista insieme a uno sciopero di otto ore, chiedono al premier Draghi di prendere posizione. Il governo deve intervenire subito per fermare questa scelta scellerata della multinazionale di licenziare a Napoli. Ieri è stata proposta una cassa integrazione gratuita, si accanisce contro il sud e contro i lavoratori di Napoli. L'amministratore delegato Emea di Whirlpool, Lamorgia, ha fatto sapere dalle colonne del Corriere della Sera che non ci sarà un dietrofront. L'Italia resta per noi un mercato centrale a sicura, ma il destino dello stabilimento di via Argine è segnato. E non è il solo, si allunga infatti la lista delle multinazionali da nord a sud che dal 30 giugno scorso, con la fine del blocco ai licenziamenti imposto dal governo in pandemia, hanno accelerato le chiusure. Ieri a Firenze in 10.000, tra operai, quadri, ma anche cittadini e politici, sono scesi in Piazza Santa Croce in solidarietà con le 422 tute blu della GKN di Campi Bisenzio, licenziate via mail una settimana fa. Stesso Copione è andato in scena in Brianza con la Gianetti Ruote, che ha messo alla porta 152 addetti. Reparti chiusi anche alla Tinken, nel Bresciano azienda specializzata in cuscinetti per auto, un fulmine a ciel sereno per 106 lavoratori. L'ondata di protesta è appena iniziata. Questa mattina a Taranto si sono tenuti diversi scioperi nei siti del gruppo Acciaieria Italia per chiedere garanzie sull'occupazione e un sit-in di protesta sotto la prefettura. Le prossime due settimane si annunciano ad alta tensione. L'ipotesi di un autunno caldo è quasi una certezza. Mentre si moltiplicano i dossier aperti sul tavolo del Mise, alle prese con almeno 85 crisi industriali aperte. Impressionante il balzo dei contagi registrato in una settimana in Francia, mai così prepotente. La Farnesina intanto mette in guardia per i viaggi all'estero avverte meglio dotarsi di una copertura sanitaria. Paolo Fucili. Se è pessimismo o realismo lo diranno i giorni a venire, ma in Francia c'è già chi parla di quarta ondata del Covid. 18.000 nuovi casi solo negli ultimi 24 ore. Erano 7.000 una settimana fa. Più 150% impennata mai vista, avverte a Parigi il ministro della Sanità, Olivier Verand. E domani scattano le nuove regole annunciate otto giorni fa dal presidente Macron sul Green Pass obbligatorio in cinema e teatri e presto in bar e ristoranti. Si parla all'ultimo minuto di periodi di rodaggio e multe meno onerose per ammorbidirne l'impatto. Ma se i numeri di contagi, ricoveri e morti peggioreranno ancora, non sono esclusi neppure nuovi coprifuoco mirati, avverte il ministro transalpino per gli affari europei, Clement Bonk. Situazione in netto peggioramento anche in Germania, Gran Bretagna, Olanda. Qualunque spostamento in questo periodo può comportare rischi sanitari, ha scritto l'unità di crisi della Farnesina, all'agenzia che farà partire venerdì 400 ragazzi italiani alla volta della Grecia. Il rischio a Corfu e in molte altre isole è non trovare posto in Covid hotel e affrontare costi aggiuntivi. Incertezze che pesano sul rilancio del trasporto aereo italiano dentro e fuori i nostri confini, dopo il meno 72% di transiti nei nostri aeroporti nel 2020 rispetto all'anno precedente e perdite di ben un miliardo di euro, dice l'ente nazionale aviazione civile. E anche in Italia continuano ad aumentare i contagi spinti dalla variante Delta. 3.558 le nuove infezioni nelle ultime 24 ore, 10 i decessi, il tasso di positività che però scende all'1,6% aumentano anche se di poco i ricoveri sia nei reparti ordinari che in quelli di terapia intensiva. Green Pass è obbligatorio per i ristoranti al chiuso solo dalla zona gialla in su, zona bianca fino al 15% di occupazione dei letti di terapia intensiva. Queste alcune delle proposte arrivate dalle regioni domani. Cabina di regia e consiglio dei ministri per mettere nero su bianco il prossimo decreto emergenza. Sentiamo Nicola Ferrante. Green Pass per locali e ristoranti al chiuso, ma solo se non si trovano in zona bianca. E poi fasce di rischio ridotte da 4 a 3 e con livello massimo arancione, non più rosso, per scongiurare il blocco totale delle attività. E non è tutto. Almeno 150 tamponi al giorno ogni 100.000 abitanti e nuovi parametri per le fasce di rischio da valutare non più in base all'incidenza, ma per numero di posti letto occupati negli ospedali. Sono le richieste della Conferenza delle Regioni elaborate in un pomeriggio di tensione sulle nuove misure da adottare per rallentare i contagi. Al primo posto il Green Pass, doppia dose obbligatoria ed esteso agli eventi più affollati come concerti e discoteche pur di far ripartire queste attività ancora ferme, ma il nodo riguarda anche treni, aeree e palestre. No, ai mezzi vaccinati da agosto servirà la doppia dose. La linea è però quella dell'interlocuzione col governo e della gradualità per non penalizzare chi ha già fatto la prima dose ed è prenotato per la seconda che farà nei prossimi giorni. Una prima stretta potrebbe allora arrivare solo fra dieci giorni. Altro nodo le fasce di rischio. Se non si cambieranno i criteri, almeno quattro regioni, Lazio, Sardegna, Sicilia e Veneto hanno già numeri per passare in giallo dalla settimana prossima. I nuovi parametri potrebbero invece considerare la pressione sugli ospedali. Si passerebbe allora da bianco a giallo oltre questi livelli, 20% per i posti letto ordinari e 15% in terapia intensiva. Domani alle 9, nuova conferenza delle regioni, poi cabina di regia in vista del Consiglio dei Ministri in una corsa contro il tempo per fermare il virus. E si guarda anche alla ripresa della scuola nella consapevolezza che non ci si può più permettere di buttare un altro anno scolastico. Si discute dunque dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico per assicurare la didattica in presenza. Il PD lo chiede per gli insegnanti, d'accordo i presidi, ma dalla Lega arriva un secco no e Forza Italia presenta un disegno di legge per estendere il dovere a tutti gli operatori, docenti e non. Beatrice Bossi. Discoteche, ristoranti e aule scolastiche. C'è il rischio assembramento anche tra i banchi, dicono i governatori, che chiedono adesso l'applicazione del Green Pass anche nelle scuole per continuare le lezioni in caso di focolaio. Dalla conferenza delle regioni è emerso anche questo, ma nel documento da presentare al governo compare anche una forte raccomandazione alla vaccinazione per maestri, professori, bidelli e amministrativi. Una raccomandazione che un disegno di legge presentato oggi da Forza Italia ha già trasformato in obbligatorietà. Così, dopo i sanitari, il testo redatto da Alicia Ronzulli definisce il vaccino un requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative e prevede la sospensione dal ruolo in caso di mancata immunizzazione. L'Associazione Nazionale Presidi, per bocca di Antonello Giannelli, ha già dato il consenso. Il prossimo passo è quello di trovare chi è rimasto indietro. In Sicilia, Liguria, Calabria, Sardegna e provincia autonoma di Bolzano manca all'appello addirittura un terzo dei professori. Sono oltre mille gli emendamenti presentati per cambiare il disegno di legge contro l'omotransfobia prodato oggi in Senato. In queste ore si decide la sorte della legge ZAN. Augusto Cantelmi. Conclusa la discussione generale sulla disegno di legge ZAN contro l'omofobia e almeno fino al 30 luglio non avrà più spazio in aula al Senato per l'arrivo dei decreti sostegnibili e semplificazioni da convertire in legge presentati oltre mille emendamenti circa 700 dalla Lega. Quelli che invece potrebbero essere utili per trovare un accordo sono di Italia Viva e del gruppo Autonomie si punta a modifiche dell'articolo 1 per quanto riguarda il sesso e l'identità di genere. Soprattutto lei ha proposto la modifica dell'articolo 1. Assolutamente sì e credo che non ci siano alternative se vogliamo approvare un provvedimento sulle discrimazioni omotrasfobiche il numero di emendamenti e tra l'altro quelli che si votavano al voto segreto dimostrano che senza intesa si rischia di far andare a mare una legge che invece è importantissima. Se si lavora ad un accordo ritiriamo gli emendamenti anche il carroccio apre ancora il compromesso. Abbiamo detto molto chiaramente che se c'è una mediazione ci sediamo al tavolo in caso contrario se c'è il muro contro muro noi andiamo avanti per la nostra strada e come dice Letta vediamo chi vince. Per il PD invece la montagna di emendamenti presentati dalla Lega dimostra che non vi sia alcuna volontà di trattare. È legittimo che le diverse forze politiche presentino emendamenti però noi ci aspettiamo coerenza con i comportamenti seguiti fin d'ora. Insomma sarebbe utile che il testo venisse approvato nello stesso testo della Camera e si desse rapidamente a questo Paese uno strumento importante di tutela nei confronti del mondo LGBT. Anche la riforma della giustizia sommersa dagli emendamenti questa volta 900 solo del Movimento 5 Stelle all'indomani dell'incontro tra Draghi e Conte e Grillini più intransigenti rialzano la testa anche sull'onda delle critiche avanzate nei confronti della riforma da parte di magistrati di primo piano. Ma la Ministra Cartabia tira diritto Luigi Faragliolo. Deve partire da Napoli la riforma della giustizia infatti è un paziente grave non abituiamoci a innocenze provate dopo 20 anni lo ha detto il guardasigilli Cartabia parlando dal capoluogo campano dove ha visitato il Tribunale. Lo status quo non è un'azione sul tavolo dopo quando ho sentito circa il numero delle tendenze i tempi di definizione dei giudizi che in appello arrivano a 5 anni i tempi di trasmissione degli atti che diceva il Presidente a volte impegnano due anni tra il primo grado e l'arrivo in corte d'appello io mi domando possiamo conquistare i reti? La riforma della giustizia ha ricevuto due attacchi diretti nelle audizioni in commissione dal procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero Derao e dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri entrambi hanno bocciato il tetto alla improcedibilità dei processi a due anni in appello e un anno in cassazione mina la sicurezza del paese l'allarme di Derao produrrà un aumento smisurato delle impugnazioni in appello e alla Suprema Corte ha sottolineato Gratteri per ingolfare la macchina dei tribunali le audizioni arrivano proprio all'indomani dell'incontro tra Mario Draghi e i 5 Stelle il Premier ha trovato un'intesa di massima con Conte e non intende modificare l'impianto della riforma mentre Matteo Renzi annuncia che firmerà domani il referendum sulla giustizia il ritorno del califato nero in Iraq una trentina le vittime dopo una forte esplosione in un affollato mercato di Baghdad su Telegram la rivendicazione dell'ISIS è stato un nostro attentatore suicidio Antonio Soviero a più di 24 ore di distanza Baghdad è ancora sotto shock per l'attentato di ieri nel mercato di Sadr City soborgo popoloso e povero a maggioranza sciita della capitale irachena il bilancio conta 35 morti 15 donne e bambini una sessantina invece i feriti molti in gravi condizioni l'attentato è stato rivendicato dall'ISIS un suo affiliato kamikaze un iracheno con addosso una cintura esplosiva artigianale si sarebbe fatto esplodere in mezzo alle persone impegnate a comprare regali per l'inizio della festa del sacrificio che apre il mese consacrato al pellegrinaggio nei luoghi santi dell'Islam Papa Francesco ha inviato un telegramma di cordoglio a firma del cardinale segretario di Stato Parolin annunzio apostolico in Iraq quello di ieri è il terzo attentato dall'inizio dell'anno a Baghdad anche questa volta i jihadisti neri non forniscono prove ma allora quanto è credibile la loro rimindicazione è credibile nella misura in cui se è vero che il califato è stato proclamato sconfitto è altrettanto vero che quest'anno è almeno il terzo tentato che si verifica nella capitale irachena uno degli ennesimi attentati in un paese tormentato e dove il governo del primo ministro Kadimi fatica a tenere sotto controllo la situazione una prospettiva che ci rende tutti inquieti anche noi italiani visto che l'Italia tra poco prenderà anche il comando delle truppe NATO in Iraq è lo spumante a guidare la ripresa delle esportazioni del vino italiano la nuova frontiera è quella dell'e-commerce e nel 2024 si punta al miliardo di bottiglie vendute Giuseppe Caporaso lo spumante guiderà la ripresa italiana del vino un ruolo rilevante in questo ambito lo continuerà ad avere poi il prosecco la fotografia è stata scattata dal forum nazionale vitivinicolo 2021 oggi a Roma promosso dalla CIA agricoltori italiani e Unione italiana vini si punta a raggiungere un miliardo di bottiglie di bodicine entro il 2024 con una percentuale di crescita del 30% che la promozione è null'altro che il trasferimento di conoscenza dei nostri vitigni autoxoni e anche di tutte le prelibatezze agroalimentari che in ogni regione d'Italia si producono sia il vino piemontese che il vino italiano in generale deve decidere cosa farà da grande cioè se vuole continuare il trend di aumentare la quantità o di aumentare il valore del proprio vino in futuro si punterà sempre di più sull'e-commerce che ha visto una forte crescita durante la pandemia la metà dei consumatori di vino secondo un'indagine presentata oggi è acquistato durante il lockdown per la prima volta del vino online e la gran parte continuerà ad utilizzare questo canale di acquisto nei prossimi anni scenario dove si consuma più a casa dove si compra online dove ci sarà più l'asporto e allo stesso tempo ovviamente serve sicuramente un importante messaggio forte di rilancio del nostro territorio perché abbiamo bisogno dei turisti abbiamo bisogno di recuperare le perdite avute abbiamo bisogno di rilanciare i nostri territori un settore vitivinicolo che si pone come protagonista sia dei mercati ma anche della resilienza dei nostri territori della ruralità e delle aree interne operazione compiuta il patron di Amazon Jeff Bezos e il resto dell'equipaggio della New Shepard hanno completato il primo volo privato nello spazio partenza da una base nel Texas alle 15 ore italiane e rientro dopo 11 minuti di volo fino a 100 chilometri di altezza Luciano Piscaglia 5 4 command and start 2 1 è stato un volo breve durato solo 11 minuti ma di importanza storica per la prima volta infatti 4 persone comuni hanno volato oltre l'atmosfera e aperto l'era del turismo spaziale sono Jeff Bezos il miliardario fondatore di Amazon suo fratello Mark l'aviatrice 82enne Wally Funk e il 18enne olandese Oliver Damen diventati così rispettivamente la donna più anziana e l'uomo più giovane ad avere raggiunto lo spazio pur preceduta infatti 9 giorni fa da quella del miliardario britannico Richard Bronson arrivata però solo a poco più di 85 km dalla terra la navicella New Shepard di Jeff Bezos e compagni partita senza piloti a bordo poco dopo le 15 ore italiana dal deserto del Texas occidentale ha raggiunto all'apice della sua traiettoria il punto di gravità zero e superato la linea di Karman che a 100 km sul livello del mare segna convenzionalmente il limite tra l'atmosfera terrestre e lo spazio esterno la navicella ha poi concluso il suo breve ma storico viaggio atterrando dopo 11 minuti nel deserto texano dove i 4 turisti dello spazio sono stati abbracciati da amici e familiari ed hanno ricevuto anche i complimenti della NASA è il giorno più bello di sempre questo il primo commento di Jeff Bezos al termine del volo suborbitale da lui intenzionalmente programmato proprio nell'anniversario dell'approdo dell'uomo sulla luna il 20 luglio 1969 e con questo è tutto grazie per averci seguito buon proseguimento di serata a tutti arrivederci grazie per averci seguito